Vai, spingi le braccia e sali, gluti attivi e vai, 4, 3, 2, 1 e lentamente vai, scendi, ancora, forza nelle braccia, spingi contro i montanti, vai di nuovo su, apri bene le anche, ancora 4, 3, 2, 1 e lentamente scendi, inspiro ed espirando allungo la schiena, sguardo sui piedi e piano, 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 scendi, ok, ne facciamo due semplici, ancora su, sali, sali, sali e questa volta scendo mantenendo le gambe tese verso l'alto, teaser 1 e ancora, sali, su, 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 allunga la schiena e piano, scendi e giù, ancora, vai, su, 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 allunga la colonna